Musica 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 Ma la posso togliere io, mamma? Musica 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 Rebecca Musica 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 Allora, io vi so solamente dire che siamo sull'Etna, per il resto ho da Cicerone Edoardo Inventa roba, se non sai, tu inventa Allora, io non posso dirvi molto altro perché, insomma, non... Non sono così informato, però siamo all'altezza dei Crateri Silvestri Lì dietro c'è un cratere, ce ne sono tanti altri Aspetta che gli faccio vedere un pochettino il panorama Ok Esatto, siamo all'altezza dei Crateri, qua sotto c'è un cratere, esattamente qua sotto, lì sopra c'è un altro Sono dei Crateri, insomma, che non sono più funzionanti dell'Etna, non esce più nulla Sono un'attrazione turistica, qui siamo, insomma, intorno ai 2000 metri, più o meno Ed ecco laggiù la città di Catania Esattamente Ieri praticamente c'è stata... Infatti spieghiamo cosa è successo ieri, perché io glielo l'ho fatto vedere Ieri c'è stata un'eruzione E noi l'abbiamo vista Esatto, si vede anche ancora un po' di fumo che esce dai Crateri sommitali Noi ieri vedevamo proprio da casa la lava Esattamente, vedevamo proprio la lava che usciva E poi stamattina, quando ci siamo svegliati Questa mattina praticamente Cadania nera Abbiamo trovato la città completamente nera, esatto Perché è piovuto un sacco di... quella che noi chiamiamo cenere dell'Etna Si può anche vedere dalla strada Che, insomma, quasi non si vede perché è completamente ricoperta di cenere Andiamo a vedere il cratere Andiamo a vedere il cratere Questo è il primo cratere che si incontra Più sopra ce ne sono di più grandi Diciamo che come Piero Angela sei bravo Sono bravo Hai un futuro da super quark Eccoci qua, ecco il cratere Si vede proprio, insomma, la forma caratteristica Qualcuno è addirittura sceso O qualcuno è scivolato Speriamo di no E niente Si può salire anche sui crateri sommitali Ovviamente eruzioni permettendo Giacomino è solamente concentrato a farsi foto qui sull'Etna Chiaramente Di fronte a questo paesaggio mi pare il minimo E Davide ce lo siamo giocati Dov'è Davide? Ecco Davide La situazione sui crateri sommitali Praticamente sembra di stare su Marte Si può salire ma bisogna organizzare l'escursione Quindi noi per oggi ci fermiamo qua Anche perché questa sera andiamo a mangiare sempre sull'Etna In un paesino A Milo Che devo vedere? Il tatuaggio dell'Etna Ah ecco vedi Fallo vedere bene Un bel tatuaggio dell'Etna Ok Allora questa sera siamo all'Appendici dell'Etna a Milo Città del vino e della musica In un'Osteria che è i quattro archi Che lavora con tutte le materie prime locali di qualità Ma anche materie prime che sono presidi slow food Questo qui è il menù Con tutti i piatti tipici Anche piatti che non si trovano altrove E poi come vi dicevo ecco qua E poi come vi dicevo ecco qua Materie prime che provengono da presidi slow food E' molto particolare hanno portato le uova Come entreti benvenuto qui portano le uova Veramente inutuale come cosa Uova sode Il locale comunque è veramente rustico e caratteristico Sembra di essere tornati indietro nel tempo E con le uova ti portano la maionese Ma non ho capito questa cosa e le uova è una cosa che fanno qua però E' una cosa che si fa qua in Sicilia E' una cosa che si fa solamente qua Quindi maionese e uovo Allora per me è arrivata la parmigiana di melanzane Un arancino che sul menù chiamano arancino arancina Ed è un arancino però particolare in questo caso Mentre Edoardo e gli altri hanno preso una pizza gourmet Sempre con, eccola qua, con prodotti tipici e slow food Un arancino bianco ma che all'interno vedo che è sporcato con un po' di pomodoro però All'interno c'è questo credo cavolo comunque locale Ora lo proviamo però ha una bella faccia Alla base dell'arancino ci sta questa crema credo di cacio cavallo Molto buona Arancino molto buono E il cacio ragusano ci sta veramente veramente bene La pizza La pizza La pizza è buona Molto buona Ingredienti? Ingredienti sono bufala Cacio ragusano Cavolo E pomodorino datterino Cotta nel forno a legna E questo cacio ragusano comunque è un formaggio molto delicato Sì Non è spinto Non è forte Non è stabito Sì è una pizza Non ho fatto bene a metterla come appetizer Perché Sì perché sta negli antipasti Sì Adesso ce l'hanno fatta una grande perché l'abbiamo presa in due Però di solito è più piccola E ci sta Ci sta Arancino buono ovviamente diverso da quello che ho provato fino ad oggi con il ragù all'interno Ma ora andiamo con la parmigiana rigorosamente con melanzane fritte Anche qua si vede questo questo cacio che usano eccolo qua Parmigiana che oltre ad essere un piatto tipico siciliano è comunque un piatto tipico meridionale Che fanno in tutte le regioni del sud Campania, Calabria Ed è molto buona Ma La cosa che veramente spicca di più è proprio la melanzana Si vede che è un prodotto locale comunque un prodotto buono Allora Edoardo ha preso delle tagliatelle di pasta fresca a ragù bianco di coniglio con pistacchio vero di Bronte Guarda che bel colore questo pistacchietto C'è veramente un bel profumo Mentre di qua abbiamo un brasato di vidello con purè e funghi porcini Porcini penso dell'Etna E invece io resto fedele alle melanzane E ho optato per una norma Quindi la mia seconda norma di questo viaggio in Sicilia Vedi questa è la norma nell'altra versione quella che diceva Edoardo l'altra sera Dove le melanzane questa volta sono fritte L'altra volta mi sembra che erano a funghetto Non so se fritte però erano a funghetto Ma sono messe questa volta a fette di sopra Formato di pasta molto buono Bello spesso Bello grosso diciamo Il stup è molto buono La ricotta salata pure Si sente Molto buona Molto buona Però personalmente preferisco la norma dell'altra sera Fatta come quella dell'altra sera diciamo Dove le melanzane non restano così a fette enormi di sopra Ma le trovi anche all'interno un pochino più piccoline Però sicuramente melanzane buone E si sente che sono fritte alla vecchia maniera La tua Edo? Molto molto buona Anche perché è finita? È finito Era un ragù bianco come si poteva vedere Il pistacchio si sentiva Non sentivi il pistacchio? Si Quando viene messo così No no si sentiva anche come consistenza Cioè più come consistenza e poi anche come gusto Che comunque accompagnava il gusto della carne di coniglio Qui siamo a Milo quindi siamo alle pendici dell'Etna E il coniglio comunque si consuma Quindi comunque resta un piatto o non vuoi Tipico Tipico Della zona insomma di questa zona qui Il ragù di coniglio E per finire costine di suino nero dei Nebrodi Allora queste sono costine di suino nero dei Nebrodi Molto buona Il grasso si scioglie in bocca E... Arrivate con un bel po' di ritardo Però il... L'attesa è stata ben ripagata Queste sono costine dei suino di... Dei suino? Di suino nero di Nebrodi Dei Nebrodi Ma... Queste sono costine di suino... Allora queste sono costine... Queste sono costine di suino nero dei Nebrodi Molto buone Eh... Il grasso si scioglie Allora queste sono costine di suino nero dei Nebrodi Molto buone E... Ehm... 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 Ehm...